Tutto tace in casa copre gli or. Il presidente Guido Molinaroli ha iscritto la squadra alla Champions, resta però intenzionato a congedarsi dal volley maschile. Ad oggi nessun contatto concreto, commenta il numero 1 Biancorosso, che riconosce però al comune l'impegno di aiutarlo nella ricerca di imprenditori intenzionati a raccogliere il testimone per portare avanti la pallavolo maschile a Piacenza. Stiamo facendo tutto il possibile per tenere vivo il titolo sportivo, l'iscrizione alla Champions League ne è la prova, afferma Molinaroli. Intanto il volley rosa pensa al mercato, dopo aver tirato un bel sospiro di sollievo, domenica il presidente Cercello ha annunciato infatti che il cammino della Rebecca Inormeccanica proseguirà. Partite De Croft e Bosetti per la Turchia, Ferretti per Baco e il libero Stefania Sanson alla volta di Novara, si guarda i movimenti d'entrata. Certa la permanenza a Piacenza di Capitan Leggeri e di Valeriano, Vaneke e Caracuta, l'allenatore sarà Alessandro Chiappini. Ieri la squadra delle campionesse d'Italia è stata regolarmente iscritta alla Champions, unico trofeo a mancare nella bacheca piacentina.